Buonasera, Daniel Miuli, Foggia Calciomania. Buonasera. Le chiedo subito come giudica la prestazione, risultato comunque roboante, soprattutto se il mister è contento della prestazione, e poi cosa ha provato con il gol, insomma la gioia, e se ha una dedica particolare. Allora, il mister devo ancora parlare della partita, però penso che per il primo tempo sia contento, il secondo inizialmente non abbiamo fatto tanto bene, però dopo facendo il 5-2 abbiamo concluso la partita, anche se abbiamo rischiato. La seconda domanda? Il gol lo dedico alla mia famiglia e ai miei genitori, che sono sempre venuti a vedermi ovunque. Quando giocavo a Verona adesso è un po' più difficile, ma soprattutto lo dedico a mio nonno, che gli avevo promesso che il primo gol era per lui. Buonasera, Antonio Iammarino, Foggia Calciomania è l'immediato. Il tuo campionato è iniziato un po' in sordina e ora invece con buone prestazioni ti stai guadagnando il posto da titolare. Quali difficoltà hai trovato all'inizio? Allora, inizialmente io comunque non ho mai giocato in una prima squadra, venivo da una primavera del Chievo, e sono sempre stato abituato a giocare largo, quindi inizialmente il mister voleva gli stare dentro, ho trovato un po' di difficoltà, però pian piano con gli allenamenti eccetera mi viene più automatico, infatti penso di farlo meglio rispetto alle prime partite. Ciao, buonasera, Emanuele Rosabio, Mazzetta dello Sport. Perché hai scelto Foggia quando dopo il fallimento del Chievo, chiedo come sia stata quella un po'? Allora, innanzitutto Pavone mi ha chiamato e mi ha detto che non dovevo rispondere a nessuno e di venire qua, e mi ha chiamato alle sei del pomeriggio e alla mattina del giorno dopo ero sui ritiro, quindi non ci ho neanche pensato perché essere allenati da Zeman comunque non capita tutte le volte ed era un'occasione che dovevo prendere. Ecco, proprio il mister ha avuto parole d'elogio per te, per il tuo modo di giocare, paradossalmente finora come esterno sei quello che è andato meglio, anche rispetto a Merola, rispetto a Di Grazia, che poi erano stati presi ed erano davanti a te all'inizio. Sì, diciamo che magari sto andando meglio, no, sto andando come loro, io in allenamento tutti ci alleniamo bene, io ho visto che essendo un giovane comunque guardo molto spesso loro, Merola, Mercai che giocano a destra, ma anche Di Grazia, Curcio, Mari, Rizzo Pina, se gioca esterno, perché da loro devo solo imparare e cerco di prendere ogni minima cosa da loro. Prima volta nel 4-3-3? No, no, ho sempre giocato nel 4-3-3, o 4-4-2. Cosa vi chiede il mister? Perché un po' di problemi li avete proprio sugli esterni, visto che Ferrante comunque gli sta facendo i suoi gol, un po' voi siete un po' più a rilento. No, agli esterni comunque chiede di venire dentro, di giocare dentro, perché facciamo superiorità numerica, come oggi che difendevano inizialmente a 3, e venendo dentro poi possiamo fare molto bene con tagli, palle filtranti e basta. Un'ultima cosa, ti chiedo un bilancio di questi primi mesi a Foggia, come la stai vivendo e come... Diciamo che i primi mesi sono stati un po' duri perché è la prima volta che ero lontano da casa, quindi li ho un po' sofferti. Poi mi sono infortunato appena sono arrivato, dopo tre giorni, è stato fuori un mese, però adesso mi sto trovando bene, abbiamo un bel gruppo, belle persone, tutto va bene, ecco. Allora, ciao, in aggiunto augurissimi, Luciano Gallucci, Foggia.com, complimenti per la rete, la prima, e penso che sia un'esperienza meravigliosa per un ragazzo della tua età. Volevo dirti, se ci racconti un po' l'azione della rete e poi cosa hai provato e cosa... Da 1 a 10, ecco, la tua maturazione nell'avere un tecnico come Zeman che ti dà dei consigli e ti dice quello che devi fare in campo, ecco, se tu potessi dare un voto da 1 a 10 in questa crescita dal punto di vista esponenziale, da quello che eri prima, da quello che adesso stai imparando e quello che probabilmente sarà in futuro. Allora, ho imparato molto, perché comunque sto facendo più cose, inizialmente giocavo sempre largo, stavo largo, invece adesso posso stare largo, ma posso andare dentro, posso fare più cose, più movimenti, e mi sento, ecco, di essermi arricchito nel mio giocare, ecco, come esterno. Poi per il gol, quando Petterna stava portando palla, ho visto che c'era un buco e il difensore non era attentissimo, mi sono buttato e mi è arrivata la palla perfetta. E ho fatto il gol, ecco. Assunta Pialariccia, il sottosopra è Foggia Calciomania. Cosa pensi del mister? Allora, il mister è un grandissimo mister, penso che come lui ce ne siano davvero pochi se non ce ne siano, ed è una fortuna averlo con noi ogni giorno, che ci insegna molte cose, e niente, ecco. Assunta Pialariccia, il mercato per chi ha fatto un'ottima, e solo per chi ha fatto un'ottima, e non c'è un bel pireci che non ce ne siano la tapporte,